Più alberi, più parchi, più biodiversità. Pescara si avvia verso un futuro più verde e sostenibile, grazie al piano di potenziamento del verde cittadino recentemente approvato. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere la città più resiliente ai cambiamenti climatici. Possiamo dire con quest'azione di oggi che Pescara si prepara un futuro più verde e più sostenibile? Sì, credo che si prepari ad un presente e ad un futuro sempre più verde e più sostenibile perché questa è una delle tante azioni che noi abbiamo messo in campo per quanto riguarda la piantumazione degli alberi. Oggi siamo in Via Raffaello dove abbiamo piantato 20 nuovi alberi nelle aiuole che erano vuote da tantissimo tempo, da tantissimi anni, grazie ad un accordo con un'associazione del terzo settore e con le scuole perché questa è un'operazione ben più ampia rispetto alla piantumazione degli alberi perché c'è un'attività di solidarietà che abbiamo fatto con l'associazione Sclerosi Multipla che ha ottenuto un pulmino a disposizione delle persone che purtroppo hanno problemi in questo senso. Poi il coinvolgimento delle scuole perché siamo stati al Galilei dove abbiamo lavorato intensamente con i ragazzi per la sostenibilità ambientale, c'è un processo in atto. Sono molteplici i benefici del verde urbano, migliore la qualità dell'aria, riduzione dell'inquinamento acustico e maggiore benessere e poi soprattutto una città più resiliente perché il verde urbano aiuta a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici come l'aumento delle temperature e le ondate di calore.